Quali sono le principali indicazioni della tossina botulinica? Le principali indicazioni per la tossina botulinica sono l'utilizzo per i muscoli mimici della fronte, la grabella, le rughe della fronte e perioculare. Gli altri impieghi possono essere per l'iperidrosi, ascellare del palmo delle mani e anche della pianta dei piedi oppure anche per off-label, per il collo, il trattamento del collo o il micro botox.